il disegno di legge vieta di produrre commercializzare e importare alimenti e mangimi sintetici pena sanzioni da 10 a 60 mila euro oppure fino al 10 per cento del fatturato annuo di chi contravviene al divieto oltre a ciò si prevede anche l'esclusione da finanziamenti statali ed europei che significa bloccare boicottare danneggiare la ricerca dammi un tuo primo parere al riguardo guarda io ti do una risposta da professore universitario la ricerca non si multa non si blocca solo in iran ho visto cose del genere noi siamo in occidente siamo in italia queste cose non le possiamo fare nel passato abbiamo visto anche tante volte paure alimentari anche abbastanza importanti rispetto a cibi nuovi che sono arrivati sul mercato ne abbiamo anche parlato abbiamo fatto una puntata su questo le patate il pomodoro la melanzana hanno creato dei timori però adesso qua siamo di fronte a una situazione secondo me del tutto inedita perché appunto abbiamo visto paure legate all'aspetto del cibo paure legate a questioni di carattere etico religioso paure legate il timore che portassero malattie abbiamo parlato la patata che doveva portare la lebra addirittura ma qui siamo di fronte a una situazione assolutamente inedita che io sinceramente non mi aspettavo che potesse capitare cioè la paura preventiva cioè nel senso che la carne sintetica come viene detto anzi la carne coltivata perché le parole sono importanti nessuno l'ha mai vista nessuno l'ha mai mangiata se non pochissimi che hanno fatto assaggi quasi di carattere spettacolare noi in coda alla puntata però chiameremo una persona che l'ha assaggiata una gastronoma importante che l'ha assaggiata assolutamente però a parte questo quindi stiamo parlando di un prodotto che non c'è sul mercato e nonostante questo sta generando un dibattito clamoroso paure pazzesche ovviamente alimentate da chi ha interesse ad alimentare questo però davvero la paura preventiva la paura senza il corpo del reato è una novità che non si è mai vista nella storia alberto è il momento della terza ospite di questa puntata anna brandoni giornalista scrittrice una delle principali divulgatrici gastronomiche del nostro paese direttrice di gastronomica il magazine del cibo del quotidiano l'inchiesta ciao anna ciao ciao ben trovati allora anna noi oggi ti abbiamo chiamata perché tu hai assaggiato per ben due volte la carne coltivata ti invidiamo tantissimo ti invidiamo e vogliamo sapere com'è ebbene sì in realtà erano entrambe degustazioni molto carbonare perché in italia questa cosa non è ancora appunto possibile però per me è stata una vera scoperta perché dal punto di vista gustativo se non avessi saputo che cosa stavo per mangiare sicuramente non avrei notato grande differenza attenzione dal punto di vista del gusto un hamburger di chianina è sicuramente molto più buono non ci piove ma se dobbiamo pensare a una degustazione di un hamburger normale di carne trita banale che possiamo comprare in qualunque supermercato sicuramente ci siamo dal punto di vista del colore forse diciamo che è una carne autentica tradizionale meglio diciamo ha un colore un po più vivace quindi quella che avevo assaggiato era un po grigiastra però è anche vero che forse dipende anche da come viene cotta e soprattutto come in questo momento non è ancora possibile produrre altro che carne trita o salsicce alla fine la mangeremmo dentro un hamburger dentro un panino quindi non la vediamo nemmeno nemmeno tanto però dal punto di vista del sapore sicuramente io non ho trovato grandissime differenze quindi è una bella cosa secondo me non dobbiamo averne paura perché sicuramente nel momento in cui la metteranno in commercio e la potremo assolutamente consumare avrà superato tutti i controlli possibili dal punto di vista igienico sanitario per cui non dobbiamo averne paura chi è piaciuto questo assaggio ascolta il ventottesimo episodio di DOI la carne sintetica non esiste ma la mangeremo grazie a tutti